Aia! Ups! Leo! Yuhuu! Ehi! Devo nascondermi! Non puoi scappare da me così facilmente! Vale la pena provare! Che diavolo! Ora siamo noi due! Leo! Lasciami in pace! Non così in fretta! Che bella foto! Ora è la mia occasione! Dov'è andato? Addio! Wow! È così interessante! Oh no! Non di nuovo! Fortunatamente questa volta sono preparato! Pensavo di aver sentito Leo! Dov'è? Che cosa è stato? Ma che strano! Cosa sta succedendo qui? Oh capisco! È un gioco! Facciamolo! Non si placa mai! Oh no! Sono in trappola! Oh no! Wow! Parkour! Che bell'allenamento! Oh no! Penso di essere al sicuro! Ehi bello! Oh! Devo uscire di qui! Non vai da nessuna parte! Oh! Non puoi scappare! Oh! Sei circondato! Oh! Ho capito! Gli armadietti! C'è un sacco di spazio qui! Vieni dentro! Ciao Leo! Wow! Una via di fuga! È fantastico! Quindi vado da quella parte! Niente t-shirt! Ci posso stare! Mi sento libero! Dove sono? Quello è... un santuario! Era solo una trappola! Come ho fatto a non capirlo? Da dove arriva tutto questo? È così inquietante! Ci deve essere una via d'uscita! Sei mio finalmente! No! Era solo un incubo! Sogni d'oro amore mio! Devo vedere Leo! Cosa sta succedendo lì dentro? La mia scatola con le cose di Leo! Il tampone con cui Leo si è pulito le orecchie... Significa così tanto per me! Ne farò tesoro per sempre! Ah! Devo averlo! Oh! Leo è sveglio! Non può vederlo! Devo nascondermi! Questo sembra un buon posto! Oh beh! Io entro! Aia! Posso stare da sola con i miei tesori! Che cosa è stato? Ho bisogno della mia privacy! Probabilmente non è niente! Non riesco proprio a mettere giù questo libro! Leo! Sono io! Sto entrando! Nessuna porta può fermarmi! Ehm... Ups! Ho la maniglia della tua porta! Come vuoi! Faila tranquilla! Devo prendere quella scatola! Cosa sta succedendo? Questo dovrebbe andare! Puoi fare piano! Scusa! Adoro il succo d'arancia appena spremuto! Ok! Ma fai piano! Questo richiede della roba esplosiva! Un po' di polvere di mentos nella serratura! E ora la soda! Questo dovrebbe aprire la serratura! Piano! Ma perché c'è fumo? Forse ho messo troppo a polvere di mentos! Qui succedono cose molto strane! Ok! Proviamo l'approccio high tech! Sto cedendo al mainframe! Ad evoccherarlo! Ho superato il primo protocollo di sicurezza! Disabilitazione del firewall! Ehi! Stai guardando un film? Ah! Interrompi! Interrompi! Aspetta! Quello sono io! No! Fai finta di non averlo visto! Oh! Per me è troppo! È ancora bloccato! Com'è difficile! Devo mettere questa nella spazzatura! Oh! Sono così assonnato! Non... non era bloccato! Dammi qua! Wow! Guarda questi! Posso spiegare? Quella è la mia biancheria intima? Beh... il fatto è che... le stavo cercando! Non guardare me! Caro diario! Io amo così tanto Leo! Apri per bene! Sei così carina quando mangi! Mmm! Delizioso! E si comporta come se non esistessi! Ho il cuore a pezzi! Il dolore è troppo! Oh! Andiamo! Ma stai scherzando! Devo fare qualcosa! Pronta? Miro? E fuoco! Vola! Aereoplanino! Sei così bella! Ah? È... un aeroplanino di cari! Oh! Immagino di sì! Fiu! Ci è mancato poco! Che mira però! Alla salute! Com'è bello! Leo! Non guardare me! Sei così disgustoso! L'ora del bagno è finita! Credimi! Sarà romantico! Pronto? Per favore non tagliarmi! Wow Leo! Sei così peloso! Ci vorrà un po'? Suppongo che dovrei rilassarmi! Oh! Adesso posso prendere un po' del suo DNA! Presto sarò in grado di clonarlo! Eh! Leo ha bisogno di un po' di deodorante! Ho fatto! Questi peli sono ovunque! Tocca a me! Wow! Credo che un semplice rasoio non basterà! Vi serve dell'attrezzatura pesante! È come una siepe! Mi fai il solletico! Che giornata! Sorpresa! Non potevo starti lontana! Come va ragazzi? Sbrigati guida! Mi avete lasciato indietro ragazzi! Ragazzi! Aspettatemi! Devo fare più cardio! Sono così felice di stare con te stasera! Non lo facevamo da troppo! E non hanno invitato me! Ma ho un piano! Devo fare piano! Mi piace! Baciami! Che cosa è stato? Scusa! C'è qualcuno là sotto! Una mano finta! Ups! Quella è mia! Che strano! La tengo quando sei via! Ok! Qui ci sono un sacco di coperte! I miei box! Che schifo! Mi piacciono! Non c'è nessuno! Siamo solo noi! Oh! Bene! Leo! Ti sta bene qui? Fanno venire voglia di vomitare! Devo andarmene! Sono contenta di essere andata a scuola di spionaggio! Dove sei Leo? Bersaglio acquisito! Oh! Avrei dovuto immaginare! È ora di entrare in azione! Vado! Devo mimetizzarmi con l'ambiente circostante! Che male ai gomiti! Devo avvicinarmi! Sì come un fantasma! Non sospettano di nulla! Perché dovevo strisciare sul cemento! Aia! Aia! Ah? Come sono bella! Devo sbrigarmi! Questo non aiuterà il mio asma! Dai! La mia banca! Deve funzionare! Retromarcia! Retromarcia! Questo vestito è semplicemente stupendo! Spero che funzioni! Continua! Wow! Aiuto! Sì! E ora la prossima parte del mio piano! Prenderò io questa! Guardami! Sono così carina! Leo sarà mio! Come fa a camminare così? Ciao tesoro! Ops! Questi sono per te! Sono bellissimi! Non belli come te! Fammi un massaggio ai piedi! Ehm... Forse dopo! Ho pensato che potremmo prendere del tè! Passami la tua tazza! Che gentiluomo! Occhio! E' caldo! Delizioso! Ok! Ma adesso... Rilassiamoci! Il vero amore non è facile da trovare ma quando succede è pura magia! Come attireresti l'attenzione della tua cotta? Faccelo sapere nei commenti qui sotto! Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri video divertenti come questo!